qui nella Lombardia e di Minari in particolare. Abbiamo con noi una persona molto importante che è Giametta Passerini che è responsabile della zona di Cobene per il canale Villoresi che sarà il nostro mentore tecnico che ci spiegherà le cose tecniche e Maurizio Minora che è responsabile dell'oiesi WWF dove arriveremo alla fine di questo percorso perché si scopre che ha bollato le oiesi WWF di cui la maggior parte delle persone ignorano l'esistenza e la dobbiamo farla conoscere perché entra un lavoro molto molto importante e molto molto interessante. Giamma ti spiegava un po' la strada di Villoresi alcuni dettagli che magari se vuoi spiegarli per tutti non ci siamo... No bene, poi ci sono quasi un po' dietro anche di ruole